Una delle domande che vengono fatte più spesso nei gruppi Facebook o nei forum dedicati al dropshipping specialmente quelli dedicati al dropshipping su Shopify dove le persone non hanno molta confidenza con eBay è quella sulle sospensioni eBay. Molti pensano che è impossibile fare dropshipping su eBay perché eBay ti sospende l'account, perché eBay ti blocca senza motivo e quindi non è un business sostenibile. Ecco perché oggi voglio parlare con te delle sospensioni eBay e come fare a costruire un business di successo nonostante le sospensioni eBay ed evitare che una sospensione distrutta il business. Resta con me. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Vi ringrazio per essere distritti, stiamo crescendo, grazie a tutti come sempre. Come abbiamo visto oggi andremo a parlare delle sospensioni eBay e nello specifico come fare a costruire un business di dropshipping e di successo su eBay nonostante le sospensioni. Mi ricordo quando ho iniziato a fare dropshipping su eBay dopo i primi tre mesi ho ricevuto la mia prima sospensione a tempo indeterminato. Per questo ovviamente è molto frustrante e ti butta giù perché ovviamente dopo che lavori, dopo che cominci a vedere dei risultati ti distruggono tutto, ti tolgono tutto senza perviso. Ma cosa ho fatto? Cosa ho pensato? Molti vedono questo come un limite. Io invece ho pensato che è un business che funziona perché se ha funzionato per tre mesi e ci sono persone che lo fanno da anni probabilmente ci sarebbe stato un modo per bypassare questo e fare un modo che funziona. Premettiamo che le sospensioni eBay non sempre sono casuali, molte volte che ovviamente l'algoritmo di eBay analizza decine e decine di variabili quando operiamo, quindi molte volte una sospensione senza senso in realtà ha altre motivazioni dietro che noi ignoriamo. Ma non è questo l'argomento del video, ho fatto un video dedicato, vi lascio la scheda per andarla a vedere in cui parlo delle sospensioni eBay. In questo caso voglio parlare su come costruire esattamente il business nonostante le sospensioni perché le sospensioni possono accadere anche se possiamo limitarle in ogni caso, dipendiamo da un'altra piattaforma che ci può limitare, che ci può sospendere o buttare fuori. Però ragazzi, prima di addentrarci un attimo nei dettagli, non fatevi limitare da questo perché quando apri l'online, almeno che sei un colosso come Amazon, è difficile che non dipendi da qualcun altro. Mettiamo il caso di dropshipping su Shopify, ha sempre problemi perché ha problemi con il business manager, viene sospeso da Facebook al business manager o Shopify ti può chiudere il negozio, dipendi da Stripe, dipendi da Shopify Payments, dipendi sempre da qualcuno. Se vendi su Amazon, Amazon blocca gli account ancora più spesso di eBay ed è molto più difficile sopravvivere per tanti motivi che non sto a spiegare in questo video. Quindi non deve essere il limite, dovete accettarlo e trovare il modo, come andiamo a vedere, di lavorare nonostante queste rendi e prevenirli, perché questo è il punto, dobbiamo prevenirli per evitare di farci buttare a terra e farci distruggere quando accadono. Ma andiamo un attimo ai livelli pratici. Cosa ho fatto? Qual è la soluzione, ragazzi? La soluzione per non farci distruggere è ovviamente avere più negozi, più account, eBay. Voi avete un solo negozio, una sola entrata e vi tolgono quell'entrata, ovviamente è più difficile reagire, ovviamente vi butto a terra, vi cominciate a deprimere, vi cominciate a dubitare di questo modo di lavorare, ok? Invece avendo più entrate, avendo più negozi dove splittare il vostro business, il vostro rischio, perché state splittando il vostro rischio, se ve ne eliminano uno per qualsiasi motivo, ne avete altri due, altri tre, altri dieci, sì, la prendete a male, state a un momento l'impatto fa male, ok? È normale, vi stanno cogliendo comunque una fonte di entrata, una cosa in cui avete lavorato, però ne avete altri tre, ne avete altri nove che vi da sostenere, che vi sostengono, quindi non è la fine del mondo. Oltre che ovviamente è più facile scalare, avendo più negozi, e anche vi divide il rischio, ok? Vi splitta il rischio, vi dà una certa sicurezza, ovviamente aumenta il lavoro di gestione, ma aumenteranno anche gli introi, aumenteranno anche le entrate, avendo più negozi. Ma come facciamo a gestire più negozi? Ci sono due tipi di account ebay, ok? Diciamo, due tipi di multi-account. Il primo tipo si chiama account linker, account collegato, cioè collegato a voi. Voi avete due account, con gli stessi nominativi, con gli stessi dati, lo stesso numero di telefono, stesso ip, stessa macchina, macchina intendo il computer. E ovviamente ebay, l'agritmi ebay, sa che siete voi. E quindi se ve ne sospendono uno, vi sospendono anche l'altro. Il secondo tipo di multi-account si chiama in inglese Sturlf. Cercate su Google Sturlf, se vi mangiamo in inglese troverete una montagna di documentazione. Che cosa significa? Significa che per avere più account, o questo anche se vi hanno bannato da ebay, avere un altro account, un nuovo account, non collegato a voi. Quindi con altri dati, con un altro computer, altri IP, altri numeri di telefono, tutto diverso. Solitamente chi usa, usa un nome del familiare, un account degli amici, un account dei familiari, ovviamente che poi confluisce nel vostro PayPal i fini contatti, i fini fiscali, tutto quello che volete, non è questo l'argomento del video. Quindi cosa succede? Come andrete a connettervi in questi account? Ovviamente non volete utilizzare lo stesso browser, non volete usare lo stesso IP per connettervi, dovete installare più browser nel computer, oppure creare più utenti su un browser in modo della cronologia, per chi be' legge la cronologia, quanto più collegate, anche Amazon, anche Shopify, tutti quanti leggono la vostra cronologia. Quindi collegarvi in maniera separata, diverse IP, diverse VPN, ci sono diversi modi per farlo. e andare a gestire come se fossero negozi, entità diverse. Questo vi da anche un'altra possibilità di crescere, perché volete stare più velocemente, potete avere più limiti di vendita, ovviamente perché se avete tanti negozi, potete avere più limiti di vendita e mettere più oggetti in vendita. Ovviamente poi qua nasce la domanda, immagino, come faccio a gestire tutti questi account? Diventa un casino? Devo connettermi ogni giorno da un computer diverso, da un browser diverso, da un IP diversa? Devo fare collega e scollega ogni giorno? Ecco perché noi andiamo ad utilizzare dei software esterni, come per esempio AutoDS, che trovate il mio link in descrizione, per gestire i nostri account. AutoDS ci dà la possibilità di inserire diversi account, 10 account, 20 account, per gestire tutti nella stessa piattaforma. Quindi avremo il customer service, i messaggi, tutti i messaggi in IP account sul software, tutti gli ordini in IP account sul software. Potremmo inserire i prodotti detente da software in tutti i negozi. Potremmo gestire gli out of stock, ovviamente out of stock significa oggetti non più disponibili alla vendita. Potremmo gestire quasi a 360 gradi in RoxyBay senza accederci. Quindi ovviamente avremo sempre un pannello di controllo principale da cui gestirlo. Comunque ho fatto altri video sul software, ne farò altri. Questo video è un attimo dedicato alla sospensione Bay perché su Facebook sembra prodotto dall'altro. Ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere like al video, così mi supportate e mi motivate a fare sempre più video. Detto questo, tornando all'argomento principale, ragazzi, mi stavo dicendo come facciamo a trovare nuovi account. account. Potete crearli, potete creare nuovi account separati l'uno dall'altro, oppure potete trovare account da amici, familiari, account in vendita. Ci sono forum, ci sono siti che vendono account stealth, proprio ai venditori che hanno bisogno di multi-account, che sono bannati. Ovviamente state attenti, non vi posso mettere ovviamente il link a questi account, fate una ricerca, state attenti quando fate le transazioni e cercare. Ci sono certamente materiali in giro, ovviamente se avete bisogno potete sempre contattarmi via email o via Instagram, trovate il contatto in descrizione. Quindi comprate questi account, il mio consiglio è iniziate con uno. Perché? Perché se voi non sapete gestire un account, difficilmente ne potrete gestire due o tre o cinque. Quindi gestite il primo, automatizzate il più possibile il processo, in modo che ha bisogno sempre di meno della vostra presenza. Assumete qualcuno, prendete un indiano, un flippino, un assistente virtuale che vi gestisce le task diciamo noiose, ripetive, aggiornamenti, automatizzate il processo. Capite come funziona tutta la macchina di ebay, come funzionano tutti i tipi di business e poi comprate o trovate un altro account e scalate il business e dividete il rischio. Per quanto riguarda paypal, che immagino sia una cosa che vi sia venuta in mente, potrete usare lo stesso paypal ma non potrete usare la stessa email. Ho il paypal per pagare le fees, le commissioni ebay. Per pagare le commissioni ebay in quel punto, per non fare quelli vari account, potrete usare diverse carte e dovrete utilizzare il paypal per ricevere semplicemente i pagamenti. Quindi su paypal, su un conto paypal, potrete mettere fino a 8 email diverse e potrete usare su 8 account diversi. Ovviamente ragazzi, nota, nota, una nota, non è che se ebay se vuole trovarvi, che se ne vuoi vi trova, vi può buttare fuori, ok? Noi facciamo questo non perché ci dà sicurezza al 100% di non essere trovati, ma per dividere il rischio che se ci vanno in un account, altri ci restano in vita e possiamo continuare il business. Perché difficilmente se abbiamo 15 account in vendita, anche se vogliamo vendere lo stesso numero di oggetti, li dividiamo in 15 account, 10 account, difficilmente se abbiamo 10 account ci sarà un effetto domino tutte e 10. Magari 1, 2, 8 restano. Poi ovviamente ragazzi, il principio è sempre prevenire le sospensioni, andatevi a guardare gli altri miei video nel canale, quelli dove parlo delle sospensioni paypal, andatevi a vedere, prevenirle e fare in modo che non ci troviamo in questa situazione. Che comunque può accadere, quindi preveniamola e costruiamo una struttura, una strategia per riuscire a lavorare e scalare un business. Questo video è stata una risposta a tutti quelli che mi chiedono, mi stivano su Facebook, che il bay sospende, che è impossibile scalare sul bay, questa è una risposta per chiarire questa posizione. Spero che le informazioni che vi ho dato siano state utili per oggi, grazie a tutti di seguirmi, vi aspetto al prossimo video, ciao!